Gentili telespettatori, buona giornata. Ignazio Larussa va contro Salvini perché Salvini ha tirato fuori una polemica sul festival che non ha senso. A volte, caro Salvini, è meglio non dire niente che parlare e dimostrare tante cose. Benigni viene assunto dalla RAI per fare il suo monologo e la RAI gli dice puoi parlare di quello che vuoi, ti diamo questi soldi, hai dieci minuti, sei un grande attore italiano, hai dieci minuti, fai il tuo monologo, parla di quello che vuoi. Benigni parla della Costituzione, quest'anno sono i 75 anni della Costituzione, l'anniversario, parlare della Costituzione non è mai sbagliato, non è che sta parlando delle leggi della pesca o sta parlando, non so, parlando della Costituzione, una roba seria davanti a 11 milioni di italiani, sensibilizzare sulla Costituzione a me sembra assolutamente giusto. Molti dicono soldi buttati, la Costituzione te la vai a comprare in edicola. piccola, solita invidia sociale perché Benigni ha preso 300 mila euro o di più. Non bisogna essere invidiosi. Benigni, il suo tempo ha un costo, la RAI utilizza i soldi pubblici, quello è un altro problema, è così però. La polemica di Salvini poteva essere benissimo evitata, dato che lui ha il governo, dato che il governo è a capo della RAI, che è uno strumento di propaganda di chi governa, Salvini che critica la RAI, che fa il festival e la RAI è controllata da Salvini e dal governo, è ridicolo? No, assolutamente. Ignazio Larussa dice, è giusto parlare della Costituzione. Anch'io amo l'articolo 21 che parla della libertà di espressione. Noi di destra sappiamo che cos'è la censura. In che senso la russa? E lui dice che la destra italiana è sempre stata censurata. Ah, pensavo dicesse un'altra cosa. No, beh, lui dice che la destra italiana è sempre stata censurata. O meglio, la destra italiana si è sempre autocensurata, prima dello sdoganamento di Berlusconi negli anni 90. La destra italiana si è sempre nascosta, perché veniva giudicata dalla sinistra supponente come una schifezza. Quindi più che la destra censurata è la destra che si è nascosta per decenni. Oggi non è più così. Dice la russa di non aver visto Benigni a Sanremo. Dice qualche anno che non seguo il festival, troppo lungo, con cantanti che per chi ha la mia età sono sconosciuti. Ma anche per chi ha 20 anni, quelli di oggi sono cantanti sconosciuti, sinceramente. Al festival abbiamo i cugini di campagna, che poverini hanno anche 80 anni, se non di più. Bella la canzone dei cugini di campagna. L'ho sentita per sbaglio su YouTube, perché anch'io non ho visto il festival. Però sono andato a cercare YouTube cugini di campagna e sono andato a cercare Anima mia. E poi ho visto, c'era anche quella del festival, l'ho sentita e sono rimasto bellissima. Però, a parte questo, il festival è fatto da reduci degli anni che furono e sconosciuti che prendono a calci i fiori. Secondo me, il festival, che era glorioso negli anni 60, oggi ormai è una tradizione, ma secondo me la gente lo guarda solo per guardare i presentatori. La gente ha guardato il festival per Benigni, Ferragni, Amadeus, l'altro cantante come cavolo si chiama che inizia con la M, Morandi. Per questo la gente guarda il festival, per i presentatori, non per i cantanti. Non credo proprio. Una piccola percentuale. Dice la Russia, mi annoio molto, lo confesso, a guardare il festival. Ho preferito cambiare canale tra Salernitana Juventus e la serie TV The Last of Us, che piace parecchio. Però dice, non sono scandalizzato da quello che ho letto qua e là, che mi hanno raccontato, a proposito del monologo di Benigni. Qualcuno sostiene che abbia un po' forzato i toni, ma io non lo so, non l'ho visto, che posso farci. E dice, anzi, trovo estremamente positivo che il Presidente sia andato a Sanremo nel giorno in cui si ricorda l'anniversario della Costituzione. È un modo per essere vicino ai cittadini, per non dare un'immagine della carica ingessata e fredda, ma anzi partecipe popolare. Mi dicono fosse rilassato e anche divertito. Davvero non ho nulla da obiettare. Gli farei i complimenti. Mentre Salvini ha criticato Benigni, ha detto che Mattarella aveva il diritto di divertirsi, non di sentire queste robe qua, insomma. Sulla prima parte della Costituzione, dice la russa, quella dei principi e dei valori, credo che nessuno abbia intenzione di toccare alcunché e va giustamente celebrata. Sulla modernizzazione della seconda parte della Costituzione, invece ricordo che lo stesso Benigni votò sì al referendum sulla riforma Renzi che non passò. Lecito, per carità, però quello era un grosso cambiamento. E poi dice, Benigni parla dell'articolo 21, quello sulla libertà di manifestazione del pensiero proprio perché scritto dopo il ventennio. E d'accordo, dice, d'accordissimo, la prima critica corretta al fascismo è proprio su questo, aver coartato e impedito queste libertà. quelle che oggi la Costituzione garantisce a tutti, anzi le dico di più. Assieme al primo, l'articolo 21 è anche il mio preferito della Costituzione. E sa perché? Perché a differenza di Benigni, al quale credo nessuno abbia mai impedito di dire quello che pensava come quando voleva, a noi giovani di destra per anni e anni è stato vietato di esprimerci nelle scuole, nelle università, nelle piazze. Non solo su argomenti meramente politici, ma anche su questioni che non dividevano su diversi punti di vista. Noi sappiamo che cos'è la censura, la libertà di espressione, ce la siamo dovuti guadagnare giorno dopo giorno. Va bene, Ignazio, grazie per le tue valutazioni, assolutamente condivisibili. Ci vediamo al prossimo video domani mattina. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo. Ricordatevi che poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete dove trovate video di notizie, politica, fai da te. Poi questi video sono condivisi sulla pagina di Facebook che si chiama Tele Italia dove poi potete condividere questi video con chi volete, anzi ne aiutate la diffusione. Grazie e arrivederci a presto.